Malcolm X, un'icona rivoluzionaria per i diritti civili. Premessa, Malcolm X, nato come Malcolm Little, o Maa, 19 maggio 1925 New York, 21 febbraio 1965, è stato un attivista e portavoce afroamericano per i diritti civili. La sua figura controversa e il suo messaggio di autodeterminazione e resistenza contro il razzismo hanno avuto un impatto profondo sul movimento per i diritti civili negli Stati Uniti e in tutto il mondo. Infanzia e giovinezza, Malcolm X nacque in una famiglia afroamericana di classe media. Suo padre, Earl Little, era un predicatore battista e attivista per i diritti civili, mentre sua madre, Louise Little, era una casalinga. La famiglia subì continue persecuzioni da parte dei suprematisti bianchi, che culminarono nell'assassinio del padre quando Malcolm aveva solo sei anni punto dopo la morte del padre. La famiglia Little cadde in disgrazia e Malcolm trascorse un'infanzia difficile, tra orfanotrofi e case famiglia. In gioventù, si avvicinò al mondo criminale, commettendo furti e trafficando droga. La svolta in carcere, nel 1946, Malcolm X fu arrestato per furto con scasso e condannato a dieci anni di carcere. Fu durante la sua incarcerazione che ebbe luogo la sua conversione all'Islam e l'incontro con la Nation of Islam Noi, un'organizzazione religiosa e politica che promuoveva l'autodeterminazione e la separazione razziale. L'ascesa come portavoce della Noi, uscito dal carcere nel 1952, Malcolm X divenne rapidamente un portavoce di spicco della Noi. Il suo carisma, la sua oratoria infuocata e il suo messaggio di resistenza contro il razzismo lo resero una figura popolare tra gli afroamericani, che lo consideravano un leader capace di difendere i loro diritti. Le critiche e la rottura con la Noi, nel corso degli anni, Malcolm X divenne sempre più critico nei confronti della leadership della Noi, in particolare del leader Elia Muhammad. Le sue posizioni sulla non violenza e sulla collaborazione con i bianchi lo portarono ad essere allontanato dall'organizzazione nel 1964. L'ultimo periodo e l'assassinio, dopo la rottura con la Noi, Malcolm X fondò l'organizzazione per l'unità afroamericana, con la quale continuò a promuovere l'autodeterminazione e la resistenza contro il razzismo. Il 21 febbraio 1965, mentre teneva un discorso ad Harlem, fu assassinato da tre uomini afroamericani. Eredità, Malcolm X rimane una figura controversa, ma la sua influenza sul movimento per i diritti civili è innegabile. Il suo messaggio di autodeterminazione e resistenza contro il razzismo ha ispirato generazioni di attivisti e continua ad essere una fonte di ispirazione per le lotte per la giustizia sociale in tutto il mondo. Alcune considerazioni, l'eredità di Malcolm X è complessa e sfaccettata. La sua enfasi sulla separazione razziale e sulla non-violenza ha generato dibattiti e critiche, ma il suo coraggio e la sua determinazione nella lotta contro il razzismo lo rendono un'icona fondamentale del movimento per i diritti civili. Il pensiero di Malcolm X ha avuto un'influenza profonda su diverse correnti di pensiero, tra cui il nazionalismo nero, il panafricanismo e i movimenti per la giustizia sociale in tutto il mondo. La figura di Malcolm X continua ad essere oggetto di studio e di dibattito, a dimostrazione della sua rilevanza storica e del suo impatto sulla società contemporanea. Conclusione. Malcolm X è stato un leader rivoluzionario che ha contribuito a cambiare il corso della storia americana. Il suo coraggio, la sua integrità e il suo impegno per la giustizia sociale lo rendono un esempio per tutti coloro che lottano per un mondo più equo e libero dal razzismo. Inoltre, per approfondire la conoscenza di Malcolm X, si consiglia di leggere la sua autobiografia, scritta in collaborazione con Alex Haley. Esistono numerosi documentari e film sulla vita di Malcolm X, tra cui Malcolm X di Spike Lee 1992. La figura di Malcolm X è stata oggetto di numerose opere d'arte, musica e letteratura.